La Capitaneria di Porto alle prime ore di stamane, individuato nel litorale di Sanremo in zona San Martino, un pedalò arenato sulla spiaggia e nei pressi dello stesso i marinai hanno trovato un giovane privo di documenti e in stato confusionale. Sono stati quindi avvisati i carabinieri e 118 i ragazzi sono stati portati in ospedale per gli accertamenti del caso.